bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi forse sono il primo in italia che vi fa vedere ragazzi la location della posizione la location della stella della nuova sfida della settimana numero 6 di fortnite ragazzi lo sapete classica sfida classica sfida che ogni settimana epic games ci propone cerca una stella segreta in giro per la mappa questo giro ragazzi la stella è tra un'impronta un campeggio e un parco giochi per la precisione ragazzi la stellina si trova qui dove vi ho appena messo il marker andiamo a prenderla assieme ci suicidiamo e carichiamo subito questo video dai che andiamo a vedere ragazzi dai che andiamo a vedere ragazzi vediamo un pochettino vediamo un pochettino allora le sfide sono uscite da pochi minuti ragazzi sono uscite veramente da pochissimi minuti qualcosa come tipo 5 o 6 anzi per la precisione da 14 minuti allora 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 aspettiamo un attimo che passa il battle bus e quando saremo circa all'altezza di condotti confusi ci lancieremo giù di prepotenza andiamo a prendere la stellina ce la sblocchiamo e buonanotte ai sognatori vediamo un pochettino vediamo un pochettino allora aspettiamo che arriva il battle bus aspettiamo che arriva il battle bus ragazzi un sacco di sfide interessantissime per questa settimana numero 6 soprattutto vogliamo vedere se la sfida segreta è quella che vi avevo preannunciato con ben 4 giorni di anticipo rispetto alla reale uscita ok stiamo andando ragazzi stiamo andando la direzione è quella giusta vediamo di arrivarci vediamo di arrivarci siamo un po corti siamo un po corti e via vediamo se andiamo a prendere ragazzi vediamo se la riusciamo ad andare a prendere tanto mi dicono che c'è l'audio basso del microfono poi andremo a sentire anche quello si avvicinano già un sacco di persone ragazzi si avvicinano un fucilamento di persone vai che andiamo noi sappiamo già dove eccole eccole stanno scendendo di prepotenza ma guarda che casino no non killatevi non killatevi mi serve la stella mi serve la stella non killatevi ma non killatevi surghulu ce la prendiamo facciamo la sfida ci mettiamo a suonare la guitarra e parte l'ignoranza vieni qua vieni qua vieni qua va bene due contro due vieni qua dove sei perché ho paura che non mi da cattivo non mi sono grande e l'ho chiuso del vince primo fight attenzione attenzione il second fight il second fight venga qua venga qua venga qua signor raven venga qua venga qua non scappi ma non scappi signor venga qui venga qui ma porca misera c'è un raven che scappa di prepotenza maledetto raven maledetto raven dai uccidimi bella ragazzi questa era la stellina della settimana torniamo in lobby ci prendiamo il pass battaglia e andiamo a caricarlo sgrong hai raggiunto livello 81 più 10 punti esperienza sfida completata io vi ricordo ragazzi di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video di condividerlo con tutti i vostri amici su tutti i vostri social noi ci vediamo in live ciao ciao